Si è tenuto quest'oggi presso la sede della comunità montana Vallo di Diano, presso la certosa di San Lorenzo a Padula, l'insediamento del partenariato locale. Nel corso dell'incontro di oggi è stato delineato attraverso un intervento integrato di tutte le parti del territorio il percorso di lavoro da svolgere per elaborare un documento strategico che poi dovrà tracciare le linee guida per gli interventi di sviluppo e crescita inclusiva e sostenibile. Ma ascoltiamo ai nostri microfoni Osvaldo Camarote e il presidente dell'Enter, Raffaele Accetta. È una giornata importante proprio per questo, perché questo territorio con l'iniziativa di oggi si dota del partenariato locale. Che cos'è il partenariato locale? È un luogo di incontro in cui tutti i soggetti associativi, culturali, istituzionali del territorio si ritrovano insieme per elaborare una strategia di sviluppo condivisa per quest'area. Purtroppo molto spesso le scelte che riguardano lo sviluppo vengono assunte o in maniera settoriale o in maniera particolaristica. La novità è che questo territorio è stato percepito dalla struttura nazionale, dal governo nazionale e anche dalla regione come un'area territoriale omogenea che nel suo insieme può produrre e può promuovere un programma di sviluppo e finalmente, dico io che mi occupo di queste cose da tanti anni, si è capita una cosa importante, che bisogna ascoltare il territorio. Sì, sicuramente è un passaggio importante la costituzione del partenariato locale perché, come è noto, noi come Vallo di Diano siamo stati scelti dalla regione Campania come un'area sperimentale per la strategia delle aree interne e che prevede, tra l'altro, anche l'ascolto e il coinvolgimento del territorio attraverso un partenariato locale che noi oggi andremo a costituire, sperando che vi sia una larga partecipazione di tutti i settori che possono riguardare lo sviluppo di questo territorio. Il sviluppo che noi vogliamo costruire insieme lo abbiamo già avviato in un certo senso come istituzioni perché sono anni che attraverso anche la comunità montana noi stiamo facendo questo lavoro e lo stiamo concretizzando soprattutto con la gestione associata di funzioni però adesso abbiamo questa grande opportunità, un'opportunità che non possiamo assolutamente lasciar correre e dobbiamo crederci, noi ci crediamo, siamo ormai anche motivati perché riteniamo che questa sia un'occasione unica per il territorio che potrà avere la possibilità non solo di avere tante risorse ma di programmare uno sviluppo diverso, uno sviluppo in cui consente a tutti di poter vivere bene il Vallo di Diano.